Dire Toscana significa dire qualità della vita e quindi del buon bere. I vini toscani sono rinomati al mondo e rappresentano uno dei biglietti da visita più conosciuti della nostra regione. Siena ospita la nona edizione della selezione dei vini di Toscana, un evento organizzato dalla regione da Toscana Promozione, in collaborazione con l'Enoteca Italiana, l'Associazione Enologi Italiani e l'Istituto Nazionale Commercio Estero. L'obiettivo della rassegna è di creare un'offerta di eccellenza con i migliori vini della regione da portare in giro per il mondo in eventi promozionali, per fare conoscere quanto sia importante nel bicchiere e non solo l'offerta del territorio toscano. La selezione è affidata a esperti commissari operanti in varie commissioni di assaggio. Il loro compito, non facile considerando la qualità dei vini toscani, è di effettuare un'analisi sensoriale dei prodotti, documentando le loro caratteristiche in una scheda di valutazione. La rassegna senese è importante per i consumatori ma anche per i produttori, vuole essere infatti un'opportunità in più in termini di visibilità e occasioni di business. I vini che superano l'esame sono coinvolti in un programma di promozione che dura due anni e che ha l'obiettivo di sviluppare nuovi contatti con operatori specializzati. Il tutto per spingere sempre di più l'enologia toscana sui vari mercati internazionali. Selezione dei vini di Toscana ha anche un'altra particolarità. È il primo concorso enologico al mondo a coinvolgere anche etichette non ancora in commercio. In nessun'altra manifestazione infatti si è pensato di valutare questa categoria di prodotti e questo rende la Kermess Senese la più importante del settore.